Entriamo nel vivo della giornata e diamo il benvenuto a Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Prego, al podio. Grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa di Cyber Security Italia. Il tema specifico di CyberSec, nuovi domini, guerre, ibride e cooperazione rappresenta un po' l'elemento logico e ovvio di un dibattito che in questo momento deve affrontare il mondo dell'economia che è legato alla Cyber Security. Il Ministero della Farnesina mi ha preparato un appunto molto positivo, magari poi lo consegnerò, ma ritengo più utile dare un contributo politico, non sciorinare una serie di dati piuttosto che di valutazioni tecniche che voi conoscete benissimo e che alla fine, ancorché precise e tecniche, sarebbero anche abbastanza banali. Io invece vorrei affrontare il mio intervento alla luce della mia funzione, sono Vice Ministro degli Esteri, mi occupo chiaramente della cooperazione internazionale legata alle tecnologie sensibili, mi occupo di aerospazio sempre nella veste e nella chiave della cooperazione internazionale. E' chiaro che in tempi normali questa cooperazione è sempre stata una cooperazione a tutto tondo, aperta, a 360 gradi. Insomma, noi siamo sempre stati dei teorici che il confronto, la collaborazione scientifica, la veicolazione delle idee degli scienziati dovrebbe rappresentare il modo migliore per garantire il progresso dell'umanità. Purtroppo nel vostro titolo c'è proprio il dato centrale. Oggi l'aggressione russa in Ucraina rappresenta la punta di un iceberg, di un mondo che è cambiato, un mondo dove sostanzialmente è caduto l'ottimismo che la globalizzazione, la diffusione della tecnologia avrebbe fatto espandere l'area della democrazia, l'area dei diritti, lo Stato di diritto. E' crollato miseramente di fronte, oggi nessuno può più negare che le cose non stanno così. La guerra che la Russia, uno dei cinque Stati che ha il potere di veto nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha sostanzialmente distrutto l'ordine che la Seconda Guerra Mondiale aveva messo in piedi. E cioè il principio generale che i rapporti tra gli Stati non si possono regolare con la forza. Tutte le dittature del mondo oggi, e tornando a quello che ho detto prima, oggi ben più della metà del pianeta è governato da Stati totalitari. Ben più di metà della popolazione vive senza democrazia. E viene spiata in maniera significativa, proprio anche grazie alle tecnologie cyber, questi Stati totalitari innanzitutto usano queste tecnologie per comprimere le libertà nelle proprie nazioni. E allora perché ho voluto fare questo cappello della guerra della Russia? Perché è chiaro che tutto quello che parte da quella data di un anno fa ha fatto sì che oggi siamo in un mondo completamente diverso e con cui dobbiamo fare i conti. E' evidente che sappiamo bene, parlo alle imprese, parlo agli stakeholder collegati alla sicurezza delle imprese, ma anche alla nostra intelligence, sappiamo che anche i nostri alleati a volte hanno atteggiamenti aggressivi dal punto di vista del tentativo di carpire conoscenze o di utilizzo dei dati sensibili. E quindi qualcuno potrebbe fare la battuta, ma di che cooperazione internazionale parliamo se magari altri nostri alleati utilizzano la nostra tecnologia magari per vincere delle gare e vendere questa tecnologia ad altri paesi o a paesi terzi. Beh, io penso che l'alternativa è sempre meglio che questa tecnologia vada in mano a potenze che dimostrano quei fatti e con la guerra che sono rivali e confermo che la cooperazione internazionale, ancorché ci possa magari in qualche circostanza danneggiare economicamente, consente un progresso scientifico del campo occidentale, del campo della Nato, dell'Unione Europea, che ci dà sempre quello spread tecnologico che consente di evitare guerre generalizzate, perché il tema su cui noi dobbiamo riflettere è che senza il chiaro predominio tecnologico del campo occidentale certamente abbiamo visto queste potenze, parliamo della Russia ma sappiamo che parliamo di altri, cosa farebbero se pensano di essere più forti. Allora la cooperazione internazionale rimane una sfida di cui sappiamo i limiti ma che nell'ambito del campo occidentale va affrontata con intelligenza, con pragmatismo ma soprattutto con una coerenza di medio e lungo termine, anche non guardando magari nell'immediatezza se ci possono essere contraccolpi. Poi è chiaro che tutto il mondo della cyber rappresenta un'immensa sfida, una l'ho appena citata, cioè la sfida del progresso tecnologico. Sappiamo che grazie a questo campo scientifico specifico possiamo implementare tutta un'altra serie di ricerche scientifiche, tecnologiche legate alla meccanica, legate all'aerospazio, all'elettronica, insomma il campo è ampio. C'è una grande sfida economica proprio perché viviamo di fronte a un mondo sempre più pericoloso per attacchi ibridi e asimmetrici. È evidente che non solo c'è un tema di protezione dei dati delle aziende private ma c'è un tema di protezione logico che riguarda tutto il settore pubblico, da quello pubblico più collegato alla difesa e quindi particolarmente sensibile a quello collegato al funzionamento complessivo dello Stato. C'è poi l'altro aspetto che ovviamente a noi interessa. La pubblica amministrazione sa bene che prospettive scientifiche di valorizzazione e di formazione dei cervelli, nel senso che si parla tanto di rientro di cervelli dall'estero, ma se noi non mettiamo in campo la ricerca anche applicata e la tecnologia in questi settori i ragazzi che laureamo andranno a lavorare all'estero su questi campi specifici. Quindi più investe il privato e il pubblico e il pubblico deve fare da volano su questo, maggiore è la formazione e la conservazione di cervelli e intelligenze e skill che possono supportare la nostra classe dirigente. Allo stesso tempo sostenere con l'offerta pubblica di difesa, insomma il Ministero degli Esteri è uno dei primi che investe chiaramente in tal senso, quindi la domanda pubblica ci sarà, e questo insomma che penso che è una cosa che interessa, perché è strategica per la nostra sicurezza, ma è anche strategica per gli asset che riteniamo importanti, la crescita economica e quelle legate alla ricerca scientifica sia tecnica sia umana di valorizzazione delle persone. Quindi la parte pubblica, lo ha detto anche già il Ministro Urso, ha ben consapevole con tutte le sue strutture dell'importanza strategica in campo. La parte della difesa dello Stato ritiene centrale questo aspetto. Il Ministero degli Esteri è pronto a sostenere, e lo fa in maniera già significativa, l'internazionalizzazione delle imprese, ma è pronto a sostenere con la sua diplomazia economica la presenza di aziende all'estero. Noi stiamo facendo a tutto campo un'azione con le agenzie spaziali, non soltanto quella tradizionale dell'ESA, ma anche quella israeliana piuttosto che l'africana, ma stiamo facendo una collaborazione profonda con tutti i partner o alleati della Nato per implementare la nostra collaborazione e dare un ambiente quanto più possibile sicuro alle nostre aziende e ai nostri operatori. Il Ministero degli Esteri è sul pezzo, io sono da pochi mesi, quindi non ho meriti specifici a poter dire una cosa del genere, ma vi posso garantire che la struttura è pronta, c'è una rete diplomatica che lavora in questo settore, c'è una direzione che si occupa specificamente anche della diplomazia legata al cyber, come ci sta quella che si occupa di aerospazio. Il Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale è ben conscio delle sue responsabilità, ma sono convinto che anche nel complesso il Governo è assolutamente consapevole della centralità del settore della cyber dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista dell'intelligenza, delle persone che ci lavorano, delle prospettive, delle sfide che ci sono e i convegni e gli incontri come questo servono appunto a rilanciare e a diffondere meglio la sensazione che l'Italia, il sistema nazione, il sistema paese su questo tema c'è. Grazie, grazie mille al Vice Ministro Cirielli per il suo intervento e per averci fatto conoscere anche l'indirizzo politico del Ministero, soprattutto sulla cyber cooperation. Se vuole poi questi documenti li lasciamo agli atti della conferenza.